Un osservatorio che da una parte permetta controlli della Regione sugli acquisti di forniture effettuati dalle amministrazioni pubbliche in modo da privilegiare quelli a basso impatto ambientale e che dall'altra presenti annualmente una relazione sulla propria attività di monitoraggio al Consiglio regionale. Sono alcuni dei contenuti di una proposta di legge presentata dal Gruppo Consigliare dell'Italia dei Valori. Controlli per le pubbliche amministrazioni per vedere se nelle loro gare di appalto, in acquisizioni contrattative e privati, vengono veramente scelti oppure incentivati l'acquisto di questi beni. Per legge le amministrazioni pubbliche dovrebbero già obbligatoriamente acquistare il 30% del loro fabbisogno di beni e manufatti scegliendo prodotti provenienti da materiale riciclato, ma questa percentuale è del tutto disattesa anche per i prezzi più elevati. All'inizio possono anche non avere il prezzo più basso, ma che sicuramente sull'analisi a questo prezzo nel tempo nel loro, per esempio, smaltimento sicuramente hanno un costo sociale molto molto inferiore agli altri.